buonasera allora oggi i cacciofi ripieni alla siciliana ovviamente si lavano i cacciofi si sbattono poi si scolano si sbattono per farle aprire poi facciamo un condimento io ho fatto mollica, formaggio, sale e pepe poi ognuno può mettere quello che vuole due litri di acqua e accendiamo i gas moderato e quando comincia diciamo a pulire l'acqua le facciamo cuocere all'incirca una mezz'oretta ovviamente ora metto il capecchio di sopra questi sono cacciofi di piena alla siciliana guardate che meraviglia ognuno ovviamente ogni regione li fa nel suo modo diciamo io li faccio così potete mettere diversi ingredienti ripeto anche l'uovo se volete se vi piace poi all'ultimo della cottura mettiamo un cucchiaino mezzo cucchiaino di olio e li lasciamo stare una buona serata